Ma lo sapevate che la pasta più famosa, italiana, più famosa al mondo sono le fettuccine ad alfredo In Italia ne conosce nessuno, poca gente, è stata inventata sta pasta qui a Roma, da questo signore, ed è famosa in tutto il mondo Com'è fatta? Ma vi faccio vedere io, la mia versione Veloce, 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 buona, buona, buona Bella, confortevole, quella proprio che ti fa sentire bene Allora, ingredienti Fettuccine, pasta all'uovo Parmigiano reggiano, oh, stagionato bene, 24 mesi Perché così se gratta, viene polveretta, così vedete com'è Questa è polvere, questa addirittura ha fatto grattuggiare piano, piano, piano Ho detto a quello, oh, non spigne, va piano a grattuggiare Poi, burro, il burro deve essere buonissimo Limoni non trattati, questo è il mio accessorio, optional E lo stesso è il pepe nero, è un optional mio Quello che vorrei mettere io in questa, in questa mia versione Quindi, andiamo piano piano a fare sta ricetta Quindi, accento Piano piano il fuoco qui sotto Prendo il burro Oh, questa non è il giornata di Di, eh, dieta Bisogna mangiare Cioè, tu è un nuovo proposito, quando la mangi devi godere Devi godere Quindi, burro Quello buono Mi raccomando, non prendete quel burro slavato, bianco E lo faccio sciogliere Allora, lo faccio sciogliere con pochissima, ma pochissima acqua Un goccetto proprio, così, di acqua Top Basta Basta così Piano piano lo faccio sciogliere Adesso, velocemente Uso le mie Fettuccine dell'amico mio Leonardo Carassai di Campofilone Che sono spettacolo Quindi è velocissima la pasta, eh Quanta ne facciamo? Le facciamo due atti e mezzo oggi Oggi due atti e mezzo tutte ce la facciamo, perché Qua ci vuole, eh Piano piano, aspettate prima che si ridratano Reidratano, ecco, ci sono scioglilingua E poi le girate, le mescolate piano piano Allora, quanto tempo ci abbiamo? Ci abbiamo pochissimi minuti, cinque minuti all'incirca Non va mantecata Io adesso il burro lo fermo E lo, ecco, vedete, si è sciolto Piano piano, si è sciolto così Il tocco mio qual è? Il tocco con il limone Che cosa succede? Allora, con tutto questo burro Con tutto questo parmigiano buono Però, capito? Perché è quella roba che ti fa sentire bene Ti fa sentire Confortevole Ci vuole qualcosa che Sgrassa, per modo di dire Rinfresca la bocca Quindi io metto Queste due buccette di limone Qua dentro Mi raccomando, non trattato Quindi Qualcosina in più Ma abbiamo il limone buono Pasta cotta Quindi Scolo Bene Così Guardate Guardate, meraviglia L'odore Sento il profumo dell'uovo Limone Sta ancora dentro Tiro fuori tutta la pasta Questo è tutto un gioco di temperatura Perché Se è troppo calda La temperatura della padella O della pasta Che succede? Si fila il formaggio Quindi noi Piano piano Guardate Guardate qui Bello Così Prima belle burrose Poi Piano piano Così Parmigiano Mamma mia Un profumo c'è Del limone Del formaggio Delizioso Adesso Così Piano piano Adesso Un pochino di acqua Poca poca acqua E adesso Piano piano Vedete il formaggio Non si deve Non deve fare la Le Piano piano si sta sciogliendo Guardate Deve fare una cremetta Aggiungiamo un altro pezzettino di burro Guardate qui Così Mamma mia Non potete capire che profumo Adesso Un altro pochino di acqua Io sto senza fuoco sotto eh Quindi è spento L'induzione è spenta completamente E adesso Siete pronte? Siete pronti tutti quanti? Guardate Guardate qui Guardate qui Dovete guardare Guardate che roba Un po' di pepe Che sempre rinfresca Sempre Noi abbiamo bisogno di cose che rinfrescano Che non ci fanno sentire in colpa Un altro pochino d'acqua Formaggio A go go Ecco qua Mi raccomando 24 mesi Un altro pochino di acqua È un gioco Di temperatura Di polso Guardate qua Mamma mia ragazzi Che godura Sto godendo in questo momento Guardate Guardate che meraviglia Guardate Mamma mia È una panna Sembra panna Guardate Piano piano che il burro si scioglie Mamma mia Allora Assaggiamo Mi sono senti male Vi giuro che mi sono senti male Allora Guardate qua Chi è? Mamma mia belle Che spettacolo Sempre la solita cosa Noi italiani Con due ingredienti Ma eccezionali Riusciamo a fare dei piatti Assurdi Adesso Questa La mantengo di nuovo E la metto dentro E impiattiamo Perché ci abbiamo la roba più buona del mondo ragazzi Che è? Guarda qua Vai Mamma mia Guarda che roba Andiamo così Qua Che spettacolo ragazzi Proprio la scotella eh Proprio la scotella Ecco qui Guardate qua Semplice Semplicissimo Ma da una bontà assoluta Rifatela che è veramente Buona Buona Mamma mia Che spettacolo Poi con il limone ci sta benissimo